Manca ancora qualche settimana alla fine dell'anno, ma i dati parlano già chiaro. La provincia di Belluno si conferma terra di donatori di sangue. L'Ursuno Dolomiti sta facendo registrare un nuovo aumento nelle donazioni, primo posto in Veneto per donazioni di sangue intero, ben sopra la media regionale. A fronte di un standard definito dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue di 40 donazioni per mille abitanti, noi ci avviciniamo a 66. E quindi rispetto ad una media regionale che è già alta e che è di 49. Non solo, anche per il solo plasma, con quasi 20,5 kg conferiti per mille abitanti, Belluno risulta sopra i 18 kg previsti dagli standard nazionali dei 19 di media regionale. La tendenza del 2024 parla di un più 2,4% di raccolta complessiva rispetto allo scorso anno, incremento più accentuato nelle donazioni di solo plasma. Cresce anche il numero delle visite di controllo e per i nuovi ingressi, così come quello delle attività ambulatoriali. Importanti poi anche i dati della medicina rigenerativa, eccellenza dell'Ussuno Dolomiti, che nel 99, prima in Italia, cominciò a occuparsene. Oltre 24.000 i prodotti, tra tendini, muscoli, ma anche tessuto osso e corne, richiesti e assegnati dal 2010 ad oggi, più di 3.300 numero record nel solo 2024. Il 20% dei soggetti interessati arriva da fuori provincia e da fuori regione. Tornando alle donazioni, le unità raccolte garantiscono non solo l'autosufficienza dell'azienda sanitaria, ma permettono anche di garantire copertura ad alte realtà, come storicamente accade verso Venezia e la Sardegna. Nel 2023 abbiamo ceduto, si dice in termini tecnici, comunque il 43% del sangue raccolto, soprattutto dei globuli rossi raccolti, tra la regione Sardegna e il Dipartimento di Venezia a livello regionale e qualcosa anche ad altri, soprattutto a Padova, ad altri dipartimenti. E nel 2024 siamo a un tendenziale di 44%. Senza sangue non c'è ospedale, ha chiusato il commissario dell'Ossuno, Giuseppe Dalben. Parliamo di un centro trasfusionale, quello dell'ospedale di Belluno, che è la base dell'attività ospedaliera, voglio dire, cioè l'attività chirurgica, ha necessità sicuramente di presenza di sacche di sangue e così via, insomma. Sono quei servizi che non compaiono, ma che lavorano, come dire, non tanto ai margini, ma nel cuore dell'ospedale per poter fare in maniera che l'ospedale possa funzionare al meglio.